Il tennis internazionale torna nella villa comunale con l'undicesima edizione della Napoli Cup. 30.000 euro di monte premi da aggiudicarsi sui campi in terra battuta del tennis club. Domani il via al calendario che prevede la finale domenica 29. La novità è che l'ingresso sarà gratuito per tutte e nove le giornate di gara. Sono sei gli azzurri scritti, Simone Bolelli, Arressandro Giannessi, Stefano Galvani, Matteo Viola, Federico Gaio e Marco Cecchinato. Oltre al sedicenne napoletano Ferruccio Cuomo è entrato con una wild card. Fra gli eventi collaterali di questa edizione domani pomeriggio ci sarà anche la consegna al sindaco Luigi De Magistris del premio Città di Napoli. Speriamo di essere protagonisti positivi e da tanti anni che portiamo avanti con la passione e la dedizione dei nostri soci la Tennis Napoli Cup, gli internazionali di tennis in villa comunale. Lo facciamo anche quest'anno sulla scia di un grande evento che c'è stato la settimana scorsa e ci ha visto coinvolti, per cui cerchiamo di essere all'altezza dell'immagine che Napoli ha dato durante la settimana delle regate veliche. Siamo convinti di poterlo fare, siamo convinti che questa città possa diventare la nuova Monte Carlo agli eventi sportivi e quindi iniziamo oggi a presentare quella che sarà la Tennis Napoli Cup 2012.